buonasera e benvenuti a questo episodio di recensioni veloci questa sera parleremo di due dispositivi che ho acquistato contemporaneamente un caricatore usb da muro quindi per la 220 con tre porte da 30 watt e con un output massimo fino a 2.4 e un set di cavi veniva venuto appunto a copie da tre che ho acquistato insieme allora subito il questo raw power con sistema smart plus come scritto qua che permette una ricarica veloce è abbastanza pesante comunque che ho ritenuto valutato addirittura come scelta amazon show s un sistema che monitora appunto l'uscita delle porte che si ha una retroilluminazione quando è attivato nella presa di corrente effettivamente ha una ricarica abbastanza immediata e costante quindi comunque è un ottimo prodotto considerato comunque un costo relativamente contenuto intorno ai 12 euro mentre il set di cavi usb con il classico connettore per gli smartphone per esempio la maggior parte degli smartphone e avvenuto era venduto comunque un set da tre con il cavo tipo c con il cavo che abbastanza rigido ok con un rivestimento in tessuto niente di particolare non siete che a suo tempo comunque venduto da tre venduto 8 euro tre cavetti insomma in linea con quello che che si trova la cosa molto interessante è che la parte che si inserisce poi sul telefono c'è la parte micro usb è abbastanza precisa e si incastra bene negli smartphone tant'è che appunto anche nelle figure presenti nell'annuncio si vede appunto che dopo che viene inserito bisogna anche fare una certa forza per levare qui non si leva così con facilità insomma quindi comunque sono due articoli molto valide a un prezzo contenuto e quindi ve lo consiglio alla prossima puntata